La solidarietà chiama la solidarietà ed è per questo che Avis è al fianco di Comen Basilicata. Certo, ma non è da oggi che Avis fa prevenzione, assolutamente sì. Ma noi abbiamo il piacere e l'onore di partecipare a questa giornata con tutti i donatori della città di Matera, ma anche sicuramente della Basilicata. Perché questa manifestazione è diventata veramente la capitale della prevenzione. Noi dobbiamo dire che Comen a Matera ha fatto tantissimo e sta facendo tanto. La nostra missione di donatori è quella appunto di incontrare giovani, di incontrare famiglie e avvisare che comunque la prevenzione aiuta tutti quanti noi, in particolar modo le donne. Perché le nostre donatrici sono quelle che portano i figli poi dopo a donare e portano anche tutti i familiari a giornate come queste per la prevenzione, per la nostra salute e per la salute di tutti. Tanti giovani avvisini al Villaggio della Salute, raccontaci come sta andando, anche se è appena cominciato e se siete contenti di essere qui. Siamo assolutamente contenti che questo progetto sta andando molto bene e anche da noi in ospedale, durante le donazioni appunto c'è molta richiesta e voler informarsi sulla corsa e su questa giornata che verrà organizzata. Speriamo appunto che come anche nella scorsa occasione ci sia una buona partecipazione da parte di tutti i materani e non solo.